Ciao Tommaso, ciao Matteo, siamo realmente pronti a ricominciare in Serie A? No, perché mancano delle regole basilari, manca un piano B nel caso in cui il campionato si dovesse nuovamente interrompere. Come valuti il lavoro di Spadafora? Spadafora ha dato, secondo me, troppo frettolosamente quel giudizio dietro la frase del calcio, non si parla, nominatemi il calcio. Dopodiché lì ha provato a fare una serie di ricuciture di un lavoro che resta comunque complicato. Fa bene il Parma ad allenarsi in gruppo? Questo è un altro problema, se permetti però, per l'unitarietà della competizione. Questa è una competizione nazionale e dovrebbe, come dire, sottintendere a regole comuni. La tua Inter come sta? Lautaro ha le valigie in mano? Lautaro e Messi la prossima stagione giocheranno insieme. Esistono un ventaglio incredibile di possibilità che giochino insieme al Barcellona ed uno minuscolo che giochino insieme all'Inter. Anche Ibra, in procinto di lasciare l'Italia. Parliamo di Brahimuic come uno dei più danneggiati dalla quarantena. Vedo difficile che comunque uno dei perni della gestione precedente venga confermato. Punteresti su Pioli? Beh, io sì. Mister Pioli, senz'altro, ha tutta la mia ammirazione e stima. Anche perché ne ho un ricordo positivo quando è stato all'Inter. Grazie Tommaso, a presto! Grazie Matteo, ciao!